Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Siamo oggi, vi porto nel Camper Service, vedete che è segnalato direi molto bene, nell'autogrill Lucignano Ovest. Allora, andiamo a vedere un po' se funziona. Intanto questa è l'area di manovra, devo dire che è stata appena ripinta, come si vede bene dalla segnalazione. Il Camper Service ha il suo rifornimento di acqua potabile. Sì, direi che il getto c'è ed è perfetto per caricare i serbatori. Poi c'è qui, la bacinella va a poter caricare e c'è anche il suo bel getto di acqua che funziona egregiamente. Poi questo invece è il lavaggio della vasca. Il lavaggio della vasca funziona perfettamente, con un buon getto e la vasca è anche che mica molto bene. Tra l'altro c'è anche un bidone dell'immondizio per buttare l'immondizia. Complimenti, quest'area di... anzi, questo Camper Service è assolutamente completo e funziona nel migliore dei modi. Ci vediamo al prossimo video, fate i bravi. Ciao a tutti!